Ragazzi sto iniziando a registrare così perché c'è una boss battle Siamo entrati in una boss battle Ma cazzo ne ho appena modificato l'aereo e non l'ho provato, ci ho messo gli overblade Sempre così succede, sempre così Lo sapevo Non andava bene Ci sono anche gli aerei Vaffan tripolo va Ah, che pare io Merda Si stanno one shontando tutti però No, ce la fanno, ce la fanno Questo con l'aereo è bello, mi piace Facciamo un satellite Tier 5 Rimasto solo Sì, è rimasto solo questo, non credo che contro l'aereo ce la possa fare Anche perché non lo potrà mai colpire se sta sopra di lui Ah no Quello si è distrutto Ah, c'è rimasto un altro E vai Grande Ah, anche quello di terra Colpisci quello di terra Che più Può colpire Oh cacchio Però colpisci l'aereo una shotta, sicuro Oh Quello di terra L'ha visto Niente niente da fare Così sarà I satellite Questo non va bene così I satellite si ha Via tutto Ok Allora Che blocchi usiamo Usiamo questi qua Saliamo sopra Ok Ehm Centrale è questo Via 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 Ok Allora Elio Uno qui E uno qui Mettiamo il nostro pilota centrale Che è qua Poi sopra Qui E qui Uno Due E uno Ah, ce ne manca uno Questo lo togliamo E ce lo mettiamo sotto Ok Così è bilanciato al massimo Adesso Adesso Io metto Un paio di blocchi Per renderlo un po' più Duro Va Mettere qua E questi blocchi Delio Li metto sul lato Così così Poi Movimento Movimento Così E poi Questi due Li mettiamo verso l'alto Per farlo salire prima Una pinna centrale ci vuole Altrimenti si Ravalta Radar E che fai Quello per ricevere L'anti Radar Sotto No Perché ci do Mettere Armi Qui Ok Poi Che arma ci mettiamo Che arma ci mettiamo Di 7 Ce ne potrei mettere 2 Potrei mettere Ce la facciamo Metterne 2 Devo allungarlo Fatti da fastidio Questi qua però Non mi convinco Sono meglio E' meglio Se li metti In centrali Vediamo Però magari Qui su Sì O qua Vediamo Vediamo cosa dice Mettendo le armi T4 Ok Vai vai Tanto anche noi Stiamo modificando Stiamo facendo Il nostro satellite Allora Potremmo mettere Delle protezione Eletro Ma non vanno bene Qua Non è meno Diamine Però Ti faccio Così In senso di sì No nemmeno Così Nemmeno Che diametro Questi I nuovi Mene nuvi No Mettiamo un po' Troppo più Laterale Basso Uno così E l'altro La parte L No R Eccolo Così Proviamo Non vorrei Però che Gli electroplate Abbiamo messi in avanti E adesso Lui Il peso Andrà in avanti Secondo me Dobbiamo Dobbiamo Vedere Dobbiamo Vedere Infatti Non sale Diamine Non sono centrati Ci abbiamo Oto distruggere No Uffa 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 Questi Electroplate Non vanno bene Qui Per niente Debbiamo andare Tipo qua Così Ma penso Che vadano bene Questi Blocchi Che danno Peso Electroplate L Così Ancora meglio Così Non è lo stesso Scusami Perché non va Perché questa non va Allora Allora E' uguale Perché E' uguale Lo stesso E' lo stesso Perché di qua tocca il tilano Non è lo stesso Ma è un triplo Testiamo così Satellite 2.0 Così il peso Debbe essere bilanciato Vediamo Infatti Ma se spingiamo in avanti Ma Al contrario Dobbiamo mettere un po' Pi' indietro E' uguale Mi sa che i blocchi Blu Ci aumentano troppo Di tier E abbiamo Delle armi Allora Questi qui vanno via Perché Non possono andare Così Quello dovrebbero andare Qui Al posto Degli Electroplate Quindi Quindi Per cui Per cui Io li metto Qua Sinceramente E' meglio Così Se spingono Verso l'alto Poi Magari Per muoverci Useremo Questi qua E li metto Qui Così Non dovrebbero dare Problemi Se Noi Per Caso Vediamo Un po' Ci abbiamo messo I plasma T7 Tutti 10 No Non ci conviene Proviamo Così Va' Tutta Sì Andiamo Una Boss Battle Anche Adesso No Mi sa che ci sta Frenkie Che sta ancora in gioco Quindi non ci fa entrare Sì Fighting Autumn Perché si è uscito Dalla partita Perché ho fatto Un fail assurdo Vai 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 Rientriamo Rientriamo Go 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 Ho creato il satellite Boss Battle Col satellite No Non puoi farmi Che non ho nemmeno Testato E fa schifo il satellite Una Boss Battle Queste poi non volano Nemmeno alto Ok Ok Noi ci teniamo Un po' A distanza Che è successo Che si gira Non mi dire Non mi dire Che più in alto Di così Non va Frank dice Che palle Queste Boss Battle Ha deciso Ha deciso il serio Colpo Colpo Che palle di rimettere Abbiamo vinto Non nell'altro senso Adesso lo voglio testare Però più in alto Di così non vai I blocchi blu Sono un po' Troppo pesanti Dovremmo farle Di un altro tipo Di blocco Tipo magari Verdi Adesso Dovremo aspettare Che sale da solo Eh si Ora almeno gira Che merda di roba Via subito Via via Non mi piasa Vediamo questo Electroplate Io direi Vaffan triplo Buttiamoci Ecco qua Semplice Semplice Mettiamo qui Se lo togliamo Qua Uno centrale Vai O anche T7 Volendo Quasi Quasi Gli applicerei Qua dietro Non me lo fa Mettere No Niente Niente Allora Se metto Gli over Scopami E Mettere Le protezioni Almeno queste Gli over Sì Mettere questa qui Allora L Qui E poi Poi Questa qui Questa qui Dobbiamo togliere assolutamente Instala Se no ci darà fastidio Con l'over Testiamolo Permettete Perché Perché Fai così Ah è più lungo in avanti Che dietro Vabbè Ho capito Non è bilanciato Quando si fanno le cose Così Velocemente Arronzando un po' Questo è quello che succede Uno Due Uno Due Specialmente Quando Specialmente Quando si usa L'elio È quello che succede Ecco perché bisogna Sempre testare Andavamo in battaglia Non riuscivo a fare Pure adesso Minimamente Niente Anzi Io ho aggiunto Due blocchi Ma Mi sa che non bastano Perché io poi ci ho messo Gli electroplati Ah no Basta Eh no Non basta Perché ci ho messo Gli electroplate Che comunque Hanno un peso Che si deve fare Che si deve fare Stiamo ancora a tier 5 Allora Io ce ne metto Un'altra qui Un'altra qui E per non sbagliare No Non si può mettere Però si allungano Altri due Già di sì Così Vabbè A parte siamo T6 Avrà il peso Troppo all'indietro E planerà Adesso Abbiamo strafatto Devo uccidere questo Moscerino Che sta rompendo le scatele Da Più di nuora Oh Invece No Non va Non va Quanto tempo Stiamo perdendo Allora 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 Scusami Se permetti Mi è venuta Un'idea Ecco qua Così dovrebbe andare Mi metto anche due più piccoli dietro E testiamo Adesso dovrebbe andare E debba essere veloce Però siamo tier 6 Quindi dobbiamo togliere i trasteri Che stanno dietro Per ritornare al tier 5 Non ci servono stelle tier 5 Vedete Effettivamente Va bene Vado a dire che va bene Quando quello della discesa Cerca quasi Ok ok Così va Togliamo i traster dietro E siamo pronti Per la battaglia Potremmo mettere uno Però Uno solo Si Ce la metto Ah è così Si La vedo Ce la vedo Ah dice Franky deve andare via E infatti È uscito dal platone Ok Facciamo quest'ultima battaglia Anche noi E andiamo Se prendo il mio healer E ci tolgo I cannoni per l'healer E ci metti plasma cannon Non ci ho pensato Oppure è una buona idea E ancora lo devo provare Con i nuovi Aeroblade Visto come ha fatto l'aereo Voglio capire Protezione 0 Usa dei blocchi rossi Ci ha messo Sei ali Oh Adesso giri Com'è Adesso te l'ho messo solo uno Giri Sto cadendo giù Oh Mi è sembrato un nemico Plasma hover Spotted Sono qua sopra i nemici Ma non potremo mai salire Credo che ce la faremo No Non ce la facciamo Forse si Dobbiamo farci il giro No Siamo coltivi ancora più giù Niente ragazzi E anche così va E anche così va Andava bene Io ho solo tolto un thruster da dietro Ce l'ho messo Cioè erano due Ce l'ho messo uno Adesso rimango bloccato In mezzo a questa chiamica di rocce Allora Ricordiosamente Guardi a terra Basta ragazzi Vabbè Questo Odio È andato proprio Una merda Quindi Io vi ringrazio per la visione Non vi dico di lasciarmi Di lasciarmi un mi piace Perché non me lo merito Non fate Non siete troppo cattivi con me Quindi Io vi ringrazio E vi saluto Ciao Benzer che è tutto Nel prossimo video Ciao ragazzi